Polemiche sul governatore Crocetta che arriva tardi sul sagrato della cattedrale di Catania quando è ormai terminato il pontificale di Sant'Agata. Il rito è stato ufficiato dal cardinale Angelo Bagnasco. Il presidente della conferenza dei Vescovi ha parlato di Catania come di una città colma di vietà popolare che il Santo Padre Francesco spesso ricorda come un patrimonio da amare e da promuovere perché segno della fede in Gesù, della devozione filiale alla Madonna e dell'affetto ai Santi. Grazie a tutti.